Nella suggestiva location del santuario di Sant'Antonio a Polla, i referenti della FIDAL nazionale e regionale hanno presentato la 14esima edizione della Strapollese, un evento podistico che negli anni ha raccolto sempre più consenso grazie alla tenacia e alla determinazione degli organizzatori. Una serata di grande interesse anche per gli interventi che si sono succeduti e presentati dal consigliere federale nazionale Carlo Cantales, che sarà anche lo speaker ufficiale della gara in programma sabato prossimo, 10 settembre, con inizio alle ore 17. Al tavolo dei relatori, insieme a Rino Di Leo, presidente della SD Podistica Pollese, organizzatrice della manifestazione, anche Amalia Di Martino, vicepresidente della FIDAL Campania e per l'amministrazione comunale, il sindaco Massimo Loviso e il presidente del Consiglio Comunale e delegato allo sport Giovanni Corleto. Diverse le personalità intervenute nel corso dell'evento di presentazione della gara che da 5 anni è partner della manifestazione podistica salernitana Salerno Corre, dando così vita al circuito Salerno Corre verso Polla. All'evento di presentazione della Strapollese è presente anche il presidente della SD Atletica Salerno, Ruggero Gatto, che nel suo intervento ha evidenziato come legame tra le due manifestazioni, supportato dalla Banca Montefruna e dal direttore generale Michele Albanese, ricoprendo nel 2017 il ruolo di 3DUNON tra le due associazioni, rappresenta anche un segno tangibile della forza che può essere tratta dalla collaborazione tra più realtà. Un concetto ribadito anche dal direttore albanese che a tal proposito ha rimarcato come oggi sia necessario abbandonare l'io per puntare sul noi. Elogi agli organizzatori sono arrivati anche dal presidente della comunità montana Valloridiano Francesco Cavallone, che nel suo saluto ha esaltato l'impegno della SD Podistica Pollese, ricordando il grande ruolo che svolge insieme ad altre associazioni locali nella diffusione dello sport e nella valorizzazione dei territori. Anche Cavallone ha posto l'accento sull'importanza della collaborazione, ricordando come da soli non si va da nessuna parte. Durante la serata è stato assegnato il pettorale numero 1 a Sandro Paladino, storico atleta e organizzatore della Corsa Longa di San Giovanni Appiro. Assegnati poi premi speciali alla memoria di Rocco Giuliano, Donatella Bruno e Ignazio Stabile a tre persone che in tempi e modi diversi hanno supportato la Strapollese. Presentata inoltre la medaglia celebrativa realizzata ed ideata dall'ingegnere Giuseppe Sarno e dal giornalista e scrittore Geppino D'Amico, ispirata alla migrazione della cicogna bianca. Si preannuncia quindi una quattordicesima edizione della Strapollese molto interessante, viste le oltre 500 iscrizioni già raggiunte per l'evento di sabato prossimo, 10 settembre, con percorso cittadino di circa 10 chilometri. Lo start della corsa è previsto per le ore 17, mentre la cerimonia di consegna dei premi è prevista per le ore 19.